Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ovviamente. Buona la torta. Allora, oggi, ventiquattresima puntata di recensioni, registro nel giorno del mio compleanno, anzi, registro il giorno in cui invecchio ancora. Allora, parliamo di una piccola trilogia che fa parte degli albi mensili che Leo Ortolani pubblica di volta in volta. Sono rispettivamente il numero 88, 89 e 90 che si sono conclusi, se non sbaglio, già tre mesi fa, che ovviamente ho recuperato molto in ritardo. Allora, questi tre, vi faccio vedere le copertine, sono, come già vi feci in un altro video, sono il Grande Magazzi e il Principe Mezzorospo. Poi c'è il Grande Magazzi, la Donna Filosofale. E poi abbiamo il Grande Magazzi, la Camera dei Segreti. In questi tre volumetti, del costo di 2,50 euro ognuno, editati come sempre dalla Panini, abbiamo in pratica un grande miscuglio di serie cinematografiche. Harry Potter, in particolar modo, perché, come si vede anche dalle copertine, è il soggetto principale di questa parodia, che, come al solito, con Leo Ortolani si trasforma in una storia completamente diversa, carica sia di humor che di una trama e di una sottotrama, che coinvolge, e questi volumetti in pratica non si leggono, si bevono, per come è scritta bene, rapida, ed è entusiasmante, perché fa ridere, fa veramente ridere. Poi, ovviamente, tutto è incentrato nel personaggio di Ratman, che, come al solito, ne passa di tutti i colori. Cosa succede? Oltre a Harry Potter abbiamo un altro filone, che è quello di Twilight, e poi, come al solito, abbiamo un po' di richiami, anche in Guerre Stellari. Andiamo con ordine e partiamo da Il Grande Magazzi e Il Principe Mezzorospo. Abbiamo questo mago, interpretato da Ratman, che si chiama Oler Magazzi, che in pratica frequenta la scuola di magia da tantissimo tempo, da molti anni, e che non è mai riuscito a diplomarsi. Incontra nuovi compagni di scuola, cui in pratica si affeziona, e loro si affezionano a lui. Il volumetto funziona in questo modo. Come nel primo Harry Potter, e anche un po' nel secondo, soprattutto i film, viene un po' sviluppata l'ambientazione, così anche Le Ortolani fa in questo volumetto. Si sviluppa la nuova ambientazione di questo pseudo Harry Potter, di questo Oler Magazzi, che è l'erede di un mago brillante, grandissimo, grandioso e potente. Ovviamente lui invece è l'esatto contrario. Quindi vediamo lo sviluppo di queste storie che, come al solito, fanno vedere un Oler Magazzi, un Ratman, completamente disastrato, completamente distrutto e ovviamente autodistruttivo. Dove si muove lui, lì succedono guai. E questo è il principale filone del Principe Mezzorospo, nel quale appunto si presenta una magia che non è la magia della saga della Rowling, ma una magia mista a trucchi, a espedienti, che tutto sono in pratica che magia, ma appunto sono trucchetti magici. E poi c'è la presentazione appunto del cattivo. Ovviamente è Voldemort, ma ha una storia tutta sua. Passo avanti e parliamo del secondo volumetto. Con La donna filosofale viene introdotto un nuovo personaggio tramite il quale Ratman, cioè Oler Magazzi, vuole riscattare la propria carriera scolastica e farsi forte delle proprie esperienze e quindi superare quest'anno scolastico e finalmente diplomarsi mago. Però ovviamente c'è un pericolo. Il pericolo è rappresentato da questo cattivo, che è Voldemort, ma ovviamente ha una storia sua, come ho detto. È un nome suo, anzi più di un nome suo, che in pratica inizia, e lo vediamo, soprattutto in queste scene che sono stupende. In queste sei vignette lo troviamo che sta reclutando porta a porta i suoi seguaci. Ovviamente dopo anni e anni di assenza deve andarle a recuperare in questo modo. In pratica, quindi, lo troviamo che, sapendo del ritorno di questo mago cattivo, Oler vuole, attraverso questo nuovo personaggio, questa donna filosofale, riscattare la propria figura e trovare il modo per mezzo del quale sconfiggere questo mago cattivo e finalmente diplomarsi, riscattare quindi il buon cognome dei magazzi. Questa donna filosofale è rappresentata da niente di meno che da Bella Swan, o Svan, non lo so come si dice, perché la serie non l'ho seguita. Quindi, la stramba ragazza di Twilight, in pratica. Quindi, come è predatrice lei, predatrice, tra virgolette, per come ho potuto vedere io alcune scene dei film, quindi, come è predatrice lei nei confronti di Edward Cullen, così è predatrice in questo volumetto. Oler riesce quindi a coinvolgere la donna filosofale e arriviamo così nel terzo volume, un volume che io trovo leggermente più scarno, più sottile rispetto agli altri, non riesco a capire perché, ma è come se la storia si bruciasse tanto che è rapida la narrazione. Ma comunque è una storia ovviamente ben fatta. E in questa storia c'è anche una leggera sottotraccia del Signore degli Anelli, soprattutto nel combattimento, per chi ha visto e letto Harry Potter, nel combattimento per Hogwarts, che qui viene ripreso ovviamente in modo diverso. Oler quindi in questo volume ritorna nella scuola di magia e assieme ai suoi compagni si preparano alla guerra. Purtroppo non vi posso dire altro, se non che il cattivo si troverà quindi faccia a faccia con questa donna filosofale. Ovviamente lo sconto, tra virgolette, che uno si aspetta, o che io mi aspettavo, è totalmente disapprovato e disatteso dalle Ortolani che ci crea una storia completamente diversa e molto molto emozionante, soprattutto divertente, perché è quello che caratterizza questo genio di disegnature e sceneggiature. E la cosa sfiziosa è rappresentata anche da alcune vignette che io vi faccio vedere rapidamente perché sennò vi brucio tutto, da alcune vignette che in pratica sono queste qui, che in pratica riprendono anche una certa pubblicità con una marionetta e alcune gomme da masticare, non dico altro. Poi, come è solito fare le Ortolani con tutte le storie di Ratman, vi è il momento in cui Ratman, o comunque la situazione, si capovolge a favore di questo piccolo topo giallo con finti superpoteri e quindi riesce a riabilitarsi agli occhi di molti. come fa di solito le Ortolani abbiamo verso metà dei volumetti delle strisce comiche che ovviamente con la storia non c'entrano molto. Non posso dire altro se non che è una bella storia anche se ho detto soprattutto col terzo volume mi è sembrato un po' bruciare per com'è veloce però è una storia molto divertente che mi è piaciuta. Io con questa puntata un po' buttata così ho finito. Spero che possiate recuperarli perché sono veramente troppo divertenti. Non mi aspettavo una trilogia del genere anche perché già lo dissi il primo l'ho preso per scambio non sapevo continuasse. Forse sono un po' di parte però ormai sapete cosa penso di Le Ortolani un disegno che non è bellissimo non è chissà quale grande capolavoro ma nella sua semplicità dei tratti riesce a dare significato tridimensionalità e chiarezza e soprattutto immediatezza perché poi è un fumetto comico quindi tutto si basa su l'immediatezza. Voglio portare un ultimo una sottolineatura sul personaggio di Piton che ovviamente non si chiama così ma poi ve lo trovate voi come si chiama perché sennò vi distruggo tutto e vi assicuro che è un personaggio fatto stupendamente non mi aspettavo una cosa del genere verso la fine del fumetto e quindi anche e soprattutto per questo mi ha strappato tanti tantissimi sorrisi e penso sia questo quello che conta in un fumetto di Ratman io vi ripeto ho finito noi ci vediamo venerdì prossimo sempre se la mia vecchiaia ce la fa a sostenirmi ci vediamo venerdì prossimo per la recensione del libro e poi vi avviso che ad agosto non ci saranno recensioni ma ci sarà solo il videotag per cui registrerò solo quello perché io poi non ci sarò e quindi mi sarà difficile poter programmare registrare non avrò internet diventa troppo complicato per cui anche per voi seguirmi diventerà complicato quindi ci vediamo poi solo con il videotag ad agosto e ricominciamo poi a settembre normalmente con tutti i video eccetera io vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi